Ora, 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 ora! Oh, no, no, no. Anfattina qua a sottotitura è la persona scoffertante pantalla Oh shit Tessi no for life Tessi no for life Ok Vì, ti ciò? Oh shit Non c'è la cosa che faccio che fai messa Non c'è la cosa che c'era Oh shit Ya troppo che fai messo Sì, non è così. Sì, non è così. Ma non è così. Stop! È il ragazzo di un cattino.